Ehi, devo ancora abituarmi al costume. Fa il suo effetto. È merito mio. Come no? Pit, diventerà mai più facile? Per certi versi, sì. Per altri, resta complicato. La Roxxon è venuta qui perché ci considera sacrificabili. Me, Rick, Finn. Tutta Harlem. Penso sia nostro dovere impedire che possano farlo franca. Lo aggiungo al giuramento di Spider-Man. Andiamo? Andiamo. Andiamo.